Buonasera a tutti gli amici di Bella Sicilia e benvenuti al borgo di San Gregorio. Buonasera a tutti e buonasera. Allora ci facciamo adesso una passeggiata. Grazie signor Matteo. Amici di Bella Sicilia, buonasera a tutti da San Gregorio Capodorlando, da questo borgo da favola che abbiamo apprezzato tante volte di giorno. Lo apprezziamo alla luce del sole, godendo del fantastico calore che regala l'atmosfera, con le dimore bianche, azzurre, il contesto del borgo dei pescatori davvero amato da tutti. Ed oggi lo apprezziamo di sera. Vi regaliamo questi momenti, condividete il video, si amate i borghi siciliani, i piccoli borghi di pescatori, come quello che stiamo attenzionando questa sera. Mi sembra di vivere un sogno, di essere proiettati in quelle favole dal fascino eterno, dove la parola pace, serenità, è grande, grande, grande. Grazie. 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 E pensate a vivere qui, svegliarsi qui, guardando il mare a due passi, col profumo del mare e con questo suono che rilassa e ritempra mente e corpo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.